Dario e Serena, Parigi e Berlino Uno spettacolo di burattini di Teatrino Pellidò, liberamente ispirato alla storia di Aldo e Daniela, fondatori del Museo Tattile Statale Omero. Testo e animazione Vincenzo Di Maio Un teatrino per burattini è fatto in modo da nascondere il burattinaio e mostrare in scena solo i burattini. Quella di Teatrino Pellidò è una baracca o teatrino di colore rosso, nero e d'oro, fatto di legno e di stoffe e si può montare ovunque ci siano persone che hanno voglia di assistere e partecipare ad uno spettacolo di burattini. Dario è un giovane uomo dai lineamenti sottili. Indossa una giacca di velluto blu con grandi bottoni, pantaloni rossi e un berretto rosso. Serena è una giovane donna con labbra rosse, capelli castani, corti e ondulati. Indossa un vestito verde chiaro a fiori e strisce. Il fondale è una piazza circondata da palazzi storici con una fontana al centro. È giorno, il cielo è sereno. Entra in scena Dario. Va bene, grazie. Sì, a domani, alle sette, mi raccomando. Ciao. Serena? Serena, sei già qui? Mmm, non c'è. Dice sempre di essere puntuale, io sono il ritardatario e invece, vedi, non c'è. Eh, lo sapevo. Bu! Ah, Serena! Dario, ciao! Come stai? Come è andato l'esame? Purtroppo non ho accettato il voto. Il professore era di cattivo umore, secondo me. E voleva darmi un voto basso, sai, ho una buona media. Era il mio ultimo esame e non volevo rovinarmi la media. Non hai accettato il voto? E perché? Quanto voleva metterti il professore, Dario? Eh, insomma, quanto voleva metterti? Trenta e lode. Oh, secchione, bugiardo che non sei altro! Il tuo ultimo esame, che bello! Dobbiamo festeggiare, sì, dobbiamo festeggiare! Eh sì, ho detto a tutti di venire domani alle sette per un aperitivo. Vieni anche tu, vero? Certo che vengo! Cos'è questo sospirone? Cosa c'è che non va? Sai, Serena, ho avuto una brutta sensazione nel studiare l'esame di storia dell'arte. Cioè, tutte quelle opere, il loro significato, i movimenti artistici, gli artisti stessi. Ecco, tutte queste cose sembra quasi che io le abbia imparate a memoria. Che non posso averne una vera esperienza. Oh, Dario, capisco questo sconforto. Eppure lo sappiamo entrambi, che l'arte non si vive mica solo attraverso gli occhi, ma anche con il cuore, con l'intelletto e con i sensi. Che non sono solo cinque, c'è anche il sesto senso, il settimo senso, sì, l'ottavo. Ma sì, è proprio così! È come quando ti penso! E proprio in quel momento tu mi chiami. Ecco, l'arte è qualcosa di meraviglioso e magico. Hai ragione, Serena. Grazie. È vero, avevo dei pensieri un po' tristi, ma tu riesci sempre a farmi tornare il sereno. Vuoi sapere qual è la domanda con la quale il professore ha deciso di darmi trenta e lode? Sì, qual è stata? È stata la domanda sulla Madonna col bambino del Crivelli. Uh, quel piccolo quadro bellissimo che è esposto proprio nella nostra pinacoteca qui ad Ancona. Già, proprio quello. E oggi pomeriggio vorrei proprio andare in pinacoteca e mettermi davanti a quel quadro e sentire che cosa mi dice. Vuoi venire con me? Oh, Dario, mi dispiace, oggi pomeriggio non posso. Ho già un impegno. Ah, va bene. Lo chiederò a Nicola. Il tuo amico artista? Sì, proprio lui. Beh, adesso se non ti dispiace dovrei andare. Ti va di accompagnarmi? Ma certo, andiamo. Allora domani l'aperitivo è alle sette? Sì, alle sette. Invita qualche tua amica se vuoi. Va bene. Nuovo fondale. Un quadro appeso al centro di una parete nera. Arriva Dario con il suo amico Nicola che indossa pantaloni rossi e giacca verde. Eccoci nella sala dove è esposta la Madonna col bambino del Crivelli. Siamo davanti al quadro? No, no, il quadro è da quel sapato. Vieni. Eccoci, adesso siamo davanti al quadro. È bello, eh? Sì, è molto bello. Dario, cosa fai? Non vorrei mica toccarlo? Oh, beh. No, non voglio toccare il quadro. Si rovinerebbe, certo. Ma mi piacerebbe toccare lo stesso quadro ma fatto al rilievo. In modo da poter sentire con le punte delle dita la disposizione dei personaggi. Se hanno il collo inclinato da una parte o dall'altra. Oppure un braccio. Magari i tessuti dei vestiti. Eh, sarebbe bellissimo, non credi? Eh sì, sarebbe proprio bello. E sai che da un po' che ci penso a tutte queste cose che mi dici. E io voglio, voglio diventare un artista che propone la sua arte come bene universale. Penso che per l'arte non sia importante se chi, se chi vuole incontrarla non si vede o non cammina bene o non sente. E l'importante è che quello che l'artista vuol trasmettere arrivi a tutti. Sì, e soprattutto al loro cuore. Già, è proprio quello che penso io. Eh, lo so. Sei tu che mi metti in testa queste strade storie, no? Sai una cosa? Lo farò io questo quadro a rilievo e te lo regalerò. Davvero? Lo faresti per me, Nicola? Beh, non proprio per te. Devo farlo, devo fare una, una prova pratica per uno dei miei esami all'accademia, già. Ah, ecco. Ma poi te lo regalo. Oh, va bene, ti ringrazio. Oh, sei contento? Sì. Bene, ma che dici? Continuiamo il nostro giro per la pinacoteca? No, no, voglio fare una cosa. Torniamo davanti al quadro. Ma sì, certo. Vieni, andiamo. Cosa vuoi fare? Ti va di guardare il quadro, ma con gli occhi chiusi? Eh, sì, dai. Chiusi? Sì. Cosa senti? Sento, sento... Non aprire gli occhi, eh? Eh, sì, sì, scusa. Sento come delle bollicine nella pancia, nella testa, nel cuore. E cosa ti ricordi del quadro? Oh, mi ricordo che la Madonna e il bambino si guardano. Che... Che ci sono come delle frutti, frutti appesi sopra di loro. E sono come in una finestra, ma dalla parte esterna. E dietro c'è un paesaggio. C'è anche il mare, sì, sì. E la Madonna ha in mano un rametto fiorito. Ok, apri gli occhi. Il mare non c'è, innanzitutto. E la Madonna non ha in mano un rametto fiorito, ma è il piede del bambino. Hai visto? Perché nella nostra mente i ricordi si trasformano, un po' come nei sogni. Eh, già, è vero. Io l'avevo già trasformato il quadro. E allora tu, ad esempio, anche se ne conosci la descrizione, ecco, perché l'hai letta, l'hai ascoltata, magari immagini dei personaggi o dei particolari che non ci sono. Già, è proprio così. Ma se io potessi toccarla, ecco, saprei meglio. E nei dettagli li conoscerei meglio, ecco. Sarebbe più bello, non credi? Ma è certo che sarebbe più bello. E infatti, e infatti io realizzerò questo quadro per te, Dario. Sei un genio con queste cose che dici sull'arte. Sono proprio d'accordo con te. Oh, grazie, grazie, Nicola. E io diventerò un artista così, che propone l'arte come bene universale per tutti. È una bellissima idea, Nicola. Spero che ce la farai. Anzi, sono sicuro che ci riuscirai. Grazie. Beh, adesso per me si può continuare. Bene, continuiamo il nostro giro in Pinacoteca. Certo che questa Pinacoteca è proprio bella, no? Sì, è bellissima. In un bel palazzo storico. Ci si potrebbero fare anche, che so, nei concerti. Negli spettacoli di Burantini. Siamo di nuovo nella piazza iniziale. Arriva Serena. Dario? Dario? Ecco, lo sapevo. Non è ancora arrivato. Sto sempre ad aspettarlo e poi dice che non è vero. Circolare, signorina! Circolare! Ma io... Dove devo... Circolare! Non sente la musica? C'è una manifestazione in corso. Circolare! Ma sto aspettando una persona. Non sapevo che non si potesse... Circolare, signorina! Dario! Ci sei cascata come una peracotta. Ma che? Facevo finta per farti contento. Ma cos'è questa musica? È una musica che ho messo per te. Per noi. Dario e Serena danzano. Prima si allontanano, poi si avvicinano. Ma cos'è questa musica che ho messo per te. Oh, sei un ballerino fantastico! Oh, mai quanto te, cara! Grazie! Aspetta, eh! Dove l'ho messo? Eccolo! Vediamo! Indovina! Cos'è questo? Questo? Questo... Così grande... È un biglietto del treno! Giusto! Brava! E dove vai? Dove andiamo, vuoi dire? E dove andiamo? Andiamo a... 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 Su, indovina! Andiamo a Pesaro a trovare tua madre. Sbagliato! Andiamo a Ribini a ballare la polca! Sbagliato! E dove andiamo, Dario? Andiamo a... Parigi e Berlino! Parigi e Berlino? Ma quando? Giovedì! Fra dieci giorni! Beh, no, fra tre! Fra tre giorni! Ma devo parlarne con i miei! E prepararmi! Magari andare dalla parrucchiera! Oh! È un sì? Sì! Oh, grazie, Serena! Parigi e Berlino! Berlino e Parigi! Parigi e Berlino! Berlino e Parigi! Oh! Oh, che bello! È fantastico! Non vedo l'ora di andare a Berlino nel Volksbund, al teatro di Bertolt Brecht! E io di passeggiare per Montmartre! E io di sentire frusciare la senna! E io di brindare con lo champagne e con te! Oh, che bello, Dario! Beh, allora adesso andiamo all'aperitivo che ci aspettano, credo di essere già un po' in ritardo! Beh, certo, le persone importanti si fanno sempre aspettare! Dove l'ho messo di nuovo? Ecco, su, andiamo! Beh, ho chiesto a Dora di venire anche lei, sai, ti dispiace se vi raggiungiamo fra un attimo? Ma certo, ci vediamo al bar! Allora ci vediamo dopo con la zia Dora! E non chiamarla zia! Oh, Parigi e Berlino! Berlino e Parigi! Parigi e Berlì! No, Berlino e Parigi! Parigi e Berlino e Parigi! Oh, mio Dio! Ma che fai? Sei impazzita? Parli da sola! Sì, Dora! Sono pazza, pazza e felice! Ma cosa è successo? Non sai cosa mi ha proposto Dario! Vuole sposarti? Ma no! Mi ha chiesto di andare con lui a Parigi e Berlino! Oh, e quando? Govedì! Ah, fra dieci giorni? No, fra tre! Oddio mio! Oddio! Oddio, ma devi prepararti, ne hai parlato con i tuoi? Beh, glielo dirò, ma non credo che mi diranno di no, eh? Non andrete mica da soli? Ma certo che andiamo da soli, ci sarà qualcuno delle guide che nei momenti della giornata ci aiuteranno, ma per il resto saremo da soli, come qui ad Ancona. Oh mio Dio, oh Dio mio, questa fissa di andare sempre in giro in posti lontani. Guarda che anche qui ci sono dei posti bellissimi. Ma sì, lo so, guarda che la settimana scorsa sono stata a Sirolo e a Recanati, fantastici. Beh sì, lo so, sono molto belli, ma Parigi e Berlino d'ora, quando mi ricapita? Parigi e Berlino, Berlino e Parigi. Eh su, stai calma. Beh, però, visto che andate giovedì prossimo, mi chiami tutti i giorni, eh? Va bene, ti chiamo tutti i giorni, su andiamo al bar, non preoccuparti zia d'ora. E non chiamarmi zia d'ora. Serena e Dora escono. Dora ha due trecce rosse e un vestito a scacchi rosa. Ora Dario e Serena sono su un treno. I loro profili si vedono dal finestrino, mentre sono seduti su una carrozza bianca e rossa. Ora si alzano. Nuovo fondale. Parete nera. Una mano appoggia una scarpa marrone da uomo sul palco. Eccoci finalmente, nella sala, dove volevo portarti sin dall'inizio. Vieni Serena. Dai, adesso mi dici cosa c'è in questa sala. Ma certo, siamo nella sala dove è esposta la famosa scarpa di Helmut Kulesky. Helmut Kulesky? Davvero? Siamo proprio qui? Ma tu credi che sia una scarpa vera o una scarpa realizzata come opera d'arte? Ma no, io credo che proprio sia una scarpa vera. Perché, come sai, l'arte contemporanea si serve spesso di oggetti di uso quotidiano. Perché messi in un museo o in un posto, insomma, diverso dal loro uso normale, prendono una luce e una bellezza diversa. E noi li guardiamo diversamente. Li consideriamo diversamente. Già, con questa scarpa l'artista ha fatto la strada, il suo percorso nell'arte e nella vita, che lo ha portato sin qui. Sì, già. Chissà com'è però questa scarpa. Se è uno scarponcino. Sì, o una scarpa di tela. Oppure una di quelle scarpe sportive. Come sarebbe bello poterla toccare, non credi? Già. Che ne dici? La tocchiamo? Dici che si può? Boh, non la roviniamo mica. Io ho le mani pulite. Anch'io. Allora dai, cerchiamo. Io vado a sinistra, tu vai a destra. È qui, è qui, Serena. Dove? Oh, eccola. Uh, senti. Ha un po' di punta, ma neanche tanto. Ha i lacci. Non è uno scarponcino. È di pelle. Ha un po' di tacco. Sembra quasi una scarpa un po' elegante, un po' classica. Sì, già. La famosa scarpa di Helmut Kolesky. Sai cosa mi è venuto in mente? Cosa? Quando da bambina giocavo a nascondino con i miei fratelli e le mie sorelle. Spesso mi nascondevo nello sgabuzzino. E mi accovacciavo sulle scarpe che c'erano lì. Erano le scarpe di mio papà. Mi sembravano giganti. Oh, che bel ricordo. Ecco, la scarpa di Kolesky adesso. E ti è bastato toccarla, sentirla, per farti venire in mente un ricordo della tua infanzia. Sì, già. E quando giocavo a nascondino, spesso mi scappava la pipì. Beh, per fortuna adesso non stiamo giocando a nascondino. Sì, ma mi scappa lo stesso la pipì. Oh, beh. Vuoi che ti accompagni? No, no, no. La guida mi ha detto che subito dopo questa sala c'era il bagno. Aspettami qui, eh. Va bene. Dov'è la porta? Oh, eccola. Entra in scena una signora di colore con vestito a motivi geometrici. Bonjour, monsieur. Je suis Zine Benbaia, la direttrice du museu. Mi scusi, ma io non parlo bene il francese. Oh, bien. Voi siete italiani? Sì. Bene, io sono Zine Benbaia, la direttrice du museu. Abbiamo visto dalle videocamere di sorveglianza che avete toccato l'opera esposta. Se è possibile, non è possibile toccare le opere esposte. Immagino che voi lo sappiate. Mi meraviglio che abbiate fatto una cosa del genere. Le chiedo profondamente scusa. Ecco, noi ci siamo permessi di toccare la famosa scarpa di Kulensky perché crediamo che in molti casi l'arte si possa vivere non solo attraverso gli occhi. Sì, lo so, sembra una cosa un po' strana, ma ecco, ogni persona ha una sua reazione, un suo modo di sentire le opere d'arte. Non crede? Puoi spiegare meglio? L'arte ci aiuta a far esplodere la nostra immaginazione e le sensazioni che ne derivano, come, che so, la tristezza, la gioia, la speranza. Fossi intuisco ciò che dice. L'arte, secondo me e secondo noi, ci coinvolge totalmente, non solo visivamente. E allora ecco, oggi ci siamo permessi di vivere l'arte, di sentirla, come vorremmo che fosse sempre possibile. Ci scusi, non si ripeterà più, non si preoccupi, non toccheremo più nessuna opera. Ma, ma quello che lei mi dice, ma lei, lei, signora, mi apre gli occhi! Oh, mi scusi, no, non si preoccupi. Lei può usare le parole che vuole. E allora me lo lasci dire, mio caro amico. Lei mi apre gli occhi rispetto a qualcosa di rivoluzionario. Ma certamente, mi è giusto che l'arte debba essere vissuta con tutti i sensi, totalmente, a 360 gradi. Ma io voglio inaugurare una sessione di questo museo, dove l'arte possa essere fruita, vissuta in questo modo, del tutto innovativo. E lei, mio caro amico, e la sua compagna, dovete assolutamente aiutarmi. Voi siete studiosi d'arte? Beh, ecco, Serena si è già laureata, io invece sto per finire. Siamo degli appassionati, è certo, abbiamo anche studiato la storia dell'arte. Beh, allora io voglio assolutamente la vostra collaborazione per creare questa sessione del museo. Voglio cominciare a lavorarci immediatamente. Vi prego, finite il vostro giro al museo con tutta calma. E dopo, prima dell'uscita, chiedete di la direttrice Zineb Maia. Vi aspetto nel mio ufficio. Grazie. Au revoir. Ma che bello. È una cosa meravigliosa. Deve essere la magia della scarpa di Kuleski. Ma non posso crederci. La direttrice che vuole che noi... Dario, Serena! Dario, cosa c'è? Non sai cosa è successo. È venuta la direttrice del museo, voleva sgridarmi perché abbiamo toccato la scarpa, ma io le ho spiegato perché lo abbiamo fatto. E lei ha detto che è fantastico e vuole inaugurare una sezione del museo dove l'arte si possa vivere, sentire, proprio come la immaginiamo noi. Dario, mi stai facendo uno dei tuoi soliti scherzi. No, te lo giuro, Serena, è vero. Ma allora, allora andiamo subito dalla direttrice. Dov'è? No, 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 no. Ha detto che possiamo finire la nostra gita e poi dopo ci aspetta nel suo ufficio. Oh, Dario, ma che fortuna! Già, è la scarpa di Koleski che ci ha portato fortuna. Sì, e te? Grazie. Su, allora continuiamo. Grazie, scarpa di Koleski. Grazie, scarpa. Oh, ma che bello, non vedo l'ora. Beh, adesso facciamo con calma e visitiamoci tutto il museo con calma. La direttrice ci aspetta. Ora, sul palco, una mano poggia due calici. Nuovo fondale, una piazzetta parigina circondata da palazzi storici. C'è un caffè con tavoli e sedi all'aperto. Dario e Serena si siedono. Ah, che cena fantastica! Già, stupenda. Abbiamo mangiato benissimo. E poi in questa piazza c'è un'area così buona, così francese. Oh, voglio vedere, voglio sentire cosa dirà Dora quando le dirò che hai mangiato delle lumache. Oh, no, ti prego, non dirglielo. E so anche cosa dirà. Cosa dirà? Oh, Dio mio! Oh, mio Dio! Ma la imiti benissimo! Oh, la direttrice mi è sembrata proprio una brava persona. E sembra davvero intenzionata a inaugurare una sezione del museo dove l'arte si possa vivere come lo pensiamo io e te. Già, ma pensa, Serena. Sarà il nostro primo lavoro. Già, e sarà insieme. E qui a Parigi. Oh, Dario. Oh, che bello, Dario. Sono proprio contenta. Dario. Madame? Oui? Voulez-vous danser avec moi? Mais certamente, monsieur. Danso volentieri. I due ballano. No. No. È il nostro primo lavoro. oh Dario che bello essere qui con te sembra tutto un sogno e invece è verità è la realtà bella come un sogno e quando si sta con te che così Dario e Serena si baciano beh questa è la nostra ultima sera a Parigi già domani mattina ci aspetta il treno per Berlino a che ora? alle 9 e mezza beh allora dobbiamo andare au revoir Parigi arrivederci Parigi vieni cara da questa parte ora Dario e Serena sono di nuovo seduti nella carrozza del treno i due si baciano nuovo fondale una parete nera una mano poggia sul palco una spugna blu e adesso è il turno della mia sorpresa eccoci in questo bellissimo museo di Berlino nella sala che preferisco più di tutte e qual è questa sala? è la sala dove è esposta la spugna blu di Yves Klein la spugna di Klein Klein che ha lavorato tutta la vita a trovare un suo particolare tipo di blu che è diventato addirittura il blu Klein già proprio quella oh Serena vado matto per queste cose grazie e lo so è per questo che sono venuta qui oh che bello dove sarà? beh la guida ha detto entrando a sinistra sarà quindi da queste parti sarebbe bello avvicinarsi un po' non credi? sì ci avviciniamo? proviamo cos'era? non lo so è suonato qualcosa mentre mi avvicinavo da questa parte prova tu non sarà mica un allarme appena ci si avvicina un po' di più alle opere credo proprio di sì riproviamo che buffo che buffo presto è meglio che andiamo via prima che ci sgridino già già andiamo andiamo aspetta via via aia Dario Dario dove sei? Dario accidenti dove è finito? Dario 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 dove sei? no no era dall'altra parte entra un uomo dai capelli arancioni mi scusi ma io non parlo il tedesco voi italiani? sì ah io essere Wolfgang Stockhausen avere visto da sentite che vuoi fare suonare sorveglianza di allarme per non troppo avvicinarsi alle opere d'arte per il rischio di essere rovinati ci scusi ecco questo non essere pacco giochi che uno viene fino qui dentro il nostro museo questo essere museo serie di berlino le chiedo scusa non si ripeterà più ecco noi ci siamo permessi perché siamo molto emozionati ad essere qui e volevamo avvicinarci all'opera d'arte per sentirla di più ecco perché di fronte a certe opere si vive un'esperienza che suscita molte emozioni e allora tutte le nostre conoscenze i nostri sensi vengono mobilitati e scusa cosa? ecco per vivere meglio il rapporto con l'arte io credo che bisogna conoscere con la testa ma valutare con il cuore io queste belle parole ma io non sono pagato per queste belle parole ma per controllare conservare garantire massima sicurezza a opere d'arte e conservare per nipote dei nipoti dei nostri nipoti sì ha ragione certo ma lei è il direttore del museo certo io voglio fare anche sto cause ecco allora saprà che in altri posti del mondo come in oriente ci sono delle opere che non vengono affatto conservate anzi vengono create perché si dissolvano dopo poco io ma qui essere a berlin non oriente e quindi voi dovete rispettare le regole di museo non fare scherzi con la nostra allarme io molto sofisticate molto tecnologica io sì va bene non si preoccupi non accadrà più del resto mia cara signora io mi dispiace per vostro problema quale problema per il fatto che voi non vede ma non è solo in questo museo che voi non poter godere di cose belle ma anche di bellezza di natura non capisco cosa sta dicendo beh di fronte a bel tramonto italiana di sempli su mar voi non poter godere di questa bellezza di natura non c'è colpa di natura ah ho capito cosa sta dicendo beh il suo discorso è veramente piccolo piccolo in che senso non si preoccupi non si preoccupi non accadrà più che ci avvicineremo alle opere d'arti stia tranquillo bene sono contento e spero che starete più attenti oh fidersen ma che antipatico e poi che stupidaggini e dov'è Dario Serena Dario Serena Dario non sai cosa è successo è venuto Wolfgang Stockhausen il direttore del museo e mi ha sgridato perché ci siamo avvicinati e abbiamo fatto suonare quello stupido allarme tutte quelle volte lo so Serena ho sentito tutto ero lì fuori e allora perché non sei venuto ad aiutarmi a dire tutte quelle belle cose che sai dire tu beh perché perché il burattinaio ha solo due braccia e quindi non poteva tirarmi fuori ecco ah sì e come sarebbe che con la direttrice del museo francese che ti ha detto che sei un rivoluzionario idee geniali c'eri tu e in questa dove mi sono dovuto abbeccare questa sgridata c'ero io non lo so sono scelte registiche del burattinaio sai non posso interferire rispetto a certe scelte ma sta zitto va tu hai il burattinaio continuiamo su va bene Serena ma non arrabbiarti dai andiamo nuovo fondale è notte una falce di luna illumina il cielo tra due file di palazzi si apre una larga strada arriva Dario ti aspetto qui fai presto entra un uomo con occhiali tondi e giacca a quadretti bianchi e neri chissà quando ci metterà ho sentito che parlavate voi siete italiano si sono italiano anche lei anche io sono italiano che bello trovare un paesano qui tanti anni che sto in Germania quanto mi manca l'Italia si 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 signore avete bisogno di aiuto volete attraversare no la ringrazio non fate complimenti guarda toccate con la mano ecco qui ci sta il pulsante spremete il pulsante per chiamare la fermata pedonale quando quello comincia a fare bip bip lo sentite lo sentite possiamo attraversare no no grazie ma venite venite bip 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 ehi e fermati non le vedi che ci sono le strisce pedonale arriva quasi sotto che ci vuoi mettere sotto ehi qua in Germania fanno dati i primi della classe ma tutto il mondo è paese datemi retta e voi siete venuti qua in vacanza o lavorate no veramente sono venuto in vacanza con la mia compagna ehi bene bene sono contento io invece ho una gelateria ehi gli affari vanno bene ma quanto mi manca l'Italia avete bisogno di qualcos'altro no la ringrazio ehi allora vado scusate ma vado di fretta arrivederci salutatemi l'Italia accidenti mi ha fatto attraversare per forza ma io dovevo aspettare Serena adesso ritorno dall'altra parte altrimenti quando arriva non mi troverà dov'è la fermata Dario Serena aspetta arrivo ma perché hai attraversato non potevi aspettarmi è una storia lunga aspetta aspetta ecco bip bip vengo lì da te vengo lì da te bip 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 ecco Serena bip bip Dario Serena Dario ma perché sei tornato dall'altra parte scusa e che pensavo che mi aspettassi qui ma se ti avevo detto che venivo lì aspetta e ritorno bip bip dove sei sono qui bip bip eccoti ma perché hai attraversato senza aspettarmi c'era un signore italiano sai quelli che vogliono aiutarti per forza a fare le cose già come sono buffi e ti ha costretto ad attraversare sì mi ha costretto oh che buffo tesoro questa è la nostra ultima sera a Berlino oh sì tesoro è stata una vacanza meravigliosa grazie anche per me su andiamo a dormire domani ci aspetta il treno per ritornare a casa già arrivederci Berlino arrivederci di nuovo in treno Dario e Serena tornano a casa siamo tornati nella piazza iniziale entra Nicola con una cornice in mano di cui vediamo il retro e allora la direttrice del museo di Parigi ha detto che vuole coinvolgervi in un lavoro con voi sì siamo stati davvero fortunati davvero fortunati Nicola no voi non siete fortunati voi siete coraggiosi sì avete il coraggio di credere in quello che vi piace siete proprio fantastici e io ho un regalo per te un regalo? ma cosa? vieni su ecco metti le punte in avanti delle dita così avvicinati piano piano ecco adesso tocca questa questa è una testa e e qui c'è una testa più piccola questa è una mano con un piede hai fatto la Madonna la Madonna col bambino del Crivelli Nicola sì l'ho fatta e come è andato l'esame? molto bene oh Nicola e il quadro è per te è il mio primo quadro a rilievo Nicola grazie fermati 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 io non sai che non mi piace quando mi smazzucchi è che sono molto contento e va bene allora adesso che facciamo? andiamo a fare un giletto? mi sa che ci sono gli altri lì in piazza no mi dispiace ma devo vedere Serena come sarebbe a dire? siete tornati ieri e di nuovo stasera col Celena? sì ha detto che vuole portarmi in un posto che c'è ma non c'è cioè in un posto che non c'è come? come in un posto che non c'è? non lo so e va bene ti accompagno? sì potremmo passare anche un attimo da casa tanto è più strada così lascio il tuo quadro e va bene andiamo su vieni ecco e quando è che ripartite per un nuovo viaggio? oh spero presto ultimo fondale cielo arancione vieni siamo arrivati aspettami qui vieni sediamoci a terra si sta bene qui eh? con te si sta bene ovunque grazie mi piace tanto il tramonto è il momento della giornata che preferisco il sole non picchia più forte il vento si calma e sulla città scende come un rispettoso silenzio e puoi sentire gli uccelli cantare e correre nel cielo prima che arrivi la sera e le rondini la fanno da padrone gridando e sfrecciando in cielo come ubriache si sembrano ubriache di gioia Dario e serena Dario e serena si baciano e si abbracciano a quest'ora l'aria diventa più leggera e si sentono i profumi della terra o del mare di quello che c'è intorno tutto diventa più dolce come immerso nel miele eh sì ma sere cosa c'entra il posto che non c'è? ti ricordi del direttore del museo di Berlino? chi fa il fan che sto causa è un grande direttore del museo di Berlino? sì proprio lui mentre tu e il burattinaio eravate nascosti ma non è che sì beh lui ha detto che noi non possiamo godere di una cosa bella come questa questo magnifico tramonto eh già tutto questo c'è ma noi non lo sappiamo eh sì povero Wolfango e povero museo andiamo caro è umido sere ma non è per niente è umido si sta benissimo eh lo so ma è una di quelle frasi che si dicono come in quei vecchi film e poi devo andare andiamo cara è umido vedi che suona bene? eh già suona benissimo non vi do l'ora di andare a Parigi a cominciare a lavorare a quel nuovo progetto ma sai una cosa Dario sai cosa ho pensato? cosa hai pensato sere? che è un museo del genere dovremmo farlo anche qui nella nostra città sì è proprio vero dovremmo farlo anche noi qui io ho già pensato ad un nome speciale un nome speciale e qual è? vuoi saperlo? sì io lo chiamerei Museo Omero Museo Omero ma suona benissimo mi piace davvero sono contenta contenta che ti piaccia beh adesso andiamo però che è umido già già è vero andiamo è umido Dario e Serena Parigi e Berlino uno spettacolo di burattini di Teatrino Pellidò liberamente ispirato alla storia di Aldo e Daniela fondatori del Museo Tattile Statale Omero testo e animazione Vincenzo Di Maio regia di Angela Burico Vincenzo Di Maio musiche originali di Eugenia Carro Igor Pitturri Agostino Gamba burattini scolpiti da Brina Babini riprese video Alessio Barbini montaggio studio audio descrizioni Daniela Bottegoni Monica Bernacchia voce Alessia Varricchio Ringraziamo Cecilia Ventriglia Teatro Solare La Cupa Altra idea di città Grazie a tutti Grazie a tutti